I volontari della Misericordia del Partenio questa mattina alle 7 sono arrivati in Albania complessivamente su input della protezione civile. Sono partiti dall'Italia oltre 200 uomini tra squadre di ricerca, unità cinofile e personale medico. I volontari di Mercogliano sono stati dirottati a Tirana. Tra le macerie si scava ancora e con il passare delle ore purtroppo il bilancio delle vittime continua a salire ma per fortuna dalle macerie si estraggono anche persone vive proprio grazie al lavoro dei soccorretori. I danni più gravi si registrano a Durazzo e Tirana dove questa mattina è arrivata anche l'ambulanza della Misericordia di Mercogliano con i tre giovani volontari che hanno portato con loro medicinali e tutto quanto necessario per i primi soccorsi. L'Irpini è vicino al popolo albanese e nelle prossime ore potrebbero partire anche altri volontari. I ragazzi della Misericordia di Mercogliano resteranno a Tirana fino a sabato. Questa mattina Salvatore, Roberto e Daniele hanno trovato ad attenderli alcuni medici del posto con i quali hanno cominciato subito a collaborare. L'ambulanza giunta a Tirana è per la rianimazione infantile, mezzo assolutamente indispensabile in queste ore, considerando che nella tragedia sono coinvolti purtroppo anche dei bambini, alcuni dei quali non ce l'hanno fatta. Decine intanto i messaggi di ringraziamento sui social per i tre giovani volontari partiti ieri sera dall'Irpinia.